Fervono i preparativi al Fermo Forum dove si stanno allestendo gli stand che ospiteranno 200 tra aziende, associazioni ed enti. Da domani, sabato 3 marzo fino a lunedì 5, ce ne sarà per tutti i gusti, con tanti personaggi dell'Italia e dall'estero, prestigiosi chef, degustazioni guidate, esperienze di manualità nel binomio tradizione e innovazione. Saranno ben 120 gli eventi in programma, una sintesi ce la fa Alberto Monachesi. Tipicità esprimerà tutte le declinazioni del gusto attraverso ben 120 eventi nei quali poter compiere le esperienze a contatto con i grandi chef italiani che si fanno onore nel mondo, con gli atenei, con la biodiversità espressa in tutte le sue forme. Quindi Tipicità sarà un vero e proprio laboratorio nel quale compiere dei percorsi che ci riconciliano con Madre Terra, ma al tempo stesso con le innovazioni che scaturiscono proprio dai nostri atenei, in particolare grazie alle attività sviluppate dalla Politecnica delle Marche, dall'Università di Macerata e dall'Ateneo Camerte.